ecco avete presente quando fate la spesa al carrefour e ne fate davvero tanta ma tanta più tanto quello rende l'idea ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sono mister mario e oggi siamo qui con lo speciale dei neti iscritti allora sono appena tornato dal carrefour dopo cinque stenanti steguanti ore di shopping ho speso 287 euro con poi vabbè con le gift card speso solo 37 euro ho preso 14 bustine di megapops quelli degli avengers questi qua ecco ne ho ce ne so ne aprirò solo 13 è solo 13 ma perché ma solo 13 ci sono tutti ma solo perché uno non resistevo l'aperto e poi ragazzi non ci che guardate cosa ho preso troppa roba c'è troppa roba c'è anche il gioco ma partiamo con lo spacchettamento primo pacchetto ragazzi questo qua speriamo ci porti iron man io sono alla ricerca di iron man niente non riesco a far esplodere niente riesco a farne manco a dire chi è questo che cavolo è questo ho trovato un egiziano sì ho trovato un egiziano molto arrabbiato partiamo col secondo pacchetto seconda bustina ok oddio che ficato che ficata non mi ricordo come si chiama che non si chiama comunque la figata facciamo con terzo faccetto non ci riesco, oggi chi è? Abbiamo trovato Hulk! No chi è Hulk o Hulk Woman? Abbiamo trovato Hulk Woman! Hulk Woman! Yeah! Andiamo avanti? No, non dirmi che è Ultron, non dirmi che è Ultron, è Ultron, e abbiamo già trovato una doppia mi sa, eh sì, è doppia Ultron, Ultron doppio perché ce l'ho non mi dicono se è quinto o quarto pacchetto, credo quinto comunque, Madonna! No, non è She-Hulk, non è She-Hulk! She-Hulk! Sesta bustina, spero di non trovare un'altra doppia. Cioè ragazzi, trovare Iron Man è come trovare un anche un pagliaio, non è, non è, non è, non è, non è, non ci voglio cre... Perché l'ho trovato due volte? Vabbè, andiamo ad aprire questo altro pacchetto, settimo pag... Oh, abbiamo trovato la mia prof di spagnolo, eccola qua, l'abbiamo trovata. Eh, sono già gli ultimi pacchetti, li stiamo facendo davvero in fretta, il duro, il duro durerà video, però, vabbè, il video durerà poco, eh, ancora una volta. Ma, madonna mia, ma non è possibile! Non è, ma ci voglio credere un'altra volta, un'altra volta! Ragazzi, me lo sento, qua c'è qualcosa che non ho trovato, qua c'è qualcosa che non ho trovato. E come vi avevo predetto, c'è qualcosa che non ho trovato, chi è? Eh, War Machine, mi pare che sia. Infatti, io me lo sentivo, me lo sentivo. Abbiamo trovato finalmente un eroe, che non sia Black Panther. Ok, andiamo. Qua me lo sento. Trovo qualcosa di nuovo. Non sto guardando, ragazzi, eh, sto andando alla cieca e infatti ci metto tre ore a prenderlo. Eh, mamma mia! Oh! Oddio! L'ho trovato! L'ho trovato! L'ho trovato! E la trova! E lo trovi! Mi manca... Ok, ultimi tre pacchetti. Questi li apro delicatamente. Speriamo in Iron Man. Vi prego, per favore, Iron Man. Vi prego, Iron Man! Questo, ragazzi, l'ho già trovato. Ok, ultimi due pacchetti. Delicatamente me lo sento qua. Non l'ho trovato, sta carta. D'accordo? Ma seriamente? Ma mi state prendendo in giro? Ma davvero? Ultimo pacchetto? Se trovo di nuovo quello là? Madonna mia! Cioè, non è possibile. Questo tizio si sta confondendo con la massa. Vabbè, andiamo. Ultimo pacchetto. Il no look, eh. Il no look. Non guardo. Chi è? Trovate un altro igeziano. Cioè, ragazzi, ho trovato più doppie che carte che non ho trovato. Non è possibile. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette doppie su tredici pacchetti. Possibile. Più della metà. Però, almeno, ragazzi, adesso abbiamo molte più... Oddio, c'è Capitano America che sta cadendo giù. Comunque, ragazzi, il video è riuscito... Madonna, è esploso tutto. Il video è riuscito a durare più del previsto, per fortuna. Per questo speciale lasciate un like qua sotto, commentate, iscrivetevi al mio e al canale di Lucchino King che trovate sotto in descrizione. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi! Grazie a tutti!